Intitolare una piazza a Giorgio Almirante è questa la pietra dello scandalo. Ad Atre il sindaco annuncia la notizia e ad insorgere arriva Lampi. Onestamente non comprendo, insomma io rispetto Lampi ci mancherebbe altro, ma non comprendo assolutamente questa polemica. Abbiamo qualche settimana fa intitolato una piazza a Derrico Berlinguer e riteniamo noi amministrazioni di centrodestra con grossa apertura mentale perché comunque è la storia della politica italiana, anche di una politica che io non condivido personalmente, ma non è questo il problema, su richiesta di un comitato cittadino. La stessa cosa è successo per quanto riguarda Giorgio Almirante e credo che la volontà dei cittadini vada rispettata allo stesso modo, quindi sono fiero di portare oggi in Consiglio Comunale questo, poi l'ultima parola chiaramente spetterà il prefetto. Una proposta, quella dell'intitolazione ad Almirante, che arriva da un comitato cittadino, proposta che verrà discussa in Consiglio e che avrà comunque bisogno dell'approvazione generale. Una decisione quindi a carattere totalmente democratico. Ci tiene a sottolinearlo il sindaco Astolfi, che non vuole invece fare polemica. Ma le mie convinzioni sono assolutamente di destra. Per me Giorgio Almirante è alla stregua di Berlinguer, senza fare paragoni inutili, un uomo che ha segnato la politica della Repubblica italiana, è stato parlamentare italiano, non mi risulta che sia stato mai in carcere o accusato di genocidio e di stragi. Ripeto, comprendo le posizioni dell'Ampi, ma onestamente mi sembra strumentale, ad una politica che di 80 anni fa e che oggi sicuramente non ci appartiene più.